Avrebbero ricevuto rassicurazioni affinché il nuovo piano delle assunzioni fosse discusso con il confronto diretto con i sindacati e le RSU. Così la funzione pubblica CGL parla di una notizia che ha sorpreso negativamente, ovvero che il commissario straordinario del comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, ha adottato il piano delle assunzioni 2022-2024 per l'ente civico. Siamo di fronte ad uno scollamento tra i bisogni della comunità e quel documento programmatorio che ad esempio su asili, nido, biblioteca, archivio e settore dell'assistenza sociale, fa qua da tutte le parti, tuona la CGL. Non abbiamo ancora avuto convocazione però sappiamo che questa nostra richiesta è stata registrata e ci auguriamo che a breve possiamo aprire il confronto perché si ragioni su un piano del fabbisogno, su un piano assunzionale che dia risposte ai dipendenti ma anche e soprattutto ai cittadini. Poche luci e molte ombre secondo la funzione pubblica, diversi punti di fragilità della risposta pubblica che rischia di compromettere anche le performance del comune in vista dei nuovi investimenti previsti dal PNRR proseguono. Riteniamo fondamentale che la contrattazione aziendale e quindi parlare di piano del fabbisogno si coniughi con la contrattazione sociale e territoriale che poi ha riververi sui cittadini del territorio stesso. Per noi piano del fabbisogno vuol dire risposte ai cittadini.